Questo è l'ultimo video del 2022 ma ho già una sorpresa per voi per il 2023, ma prima se mi conoscete già bentornati altrimenti benvenuti, io sono Jessica, qui sul canale parliamo assieme di tecnologia educativa e creativa quindi se siete interessati a questi argomenti potete iscrivervi e attivare la campanellina per ricevere le notifiche. Adesso ancora più importante del resto dell'anno perché le notifiche vi permetteranno di sapere quando torniamo qui sul canale con nuovi video. In particolare se mi conoscete già da tempo sapete che durante il periodo natalizio cavallo tra un anno e l'altro faccio sempre una breve pausa di un paio di settimane. Noi ci vedremo qui sul canale per il prossimo video per il nuovo anno e il 12 gennaio a parte qualche urgenza magari quindi attivate la campanellina perché se qualche video spunta prima così vi arriva la notifica ma diciamo così da programma il 12 gennaio. Ho fatto questo video come anche gli altri anni ovviamente per augurarvi buone feste, buon Natale e buon anno nuovo quindi buon 2023. Noi ci siamo tenuti compagnia per tutto l'anno, vi ringrazio moltissimo perché siamo davvero in tantissimi adesso e mi piace anche che mi diate dei consigli anche mi scriviate che cosa volete vedere qua sul canale. A proposito ve l'ho chiesto su Facebook e su Instagram ma ve lo richiedo anche qui ditemi nei commenti se per caso c'è qualche rubrica nuova che volete andare a vedere. Io ad esempio qui sul canale abbiamo la rubrica biblioteche dove vi parlo dei libri dedicate alle tecnologie, abbiamo la rubrica ludotech dove parliamo dei giochi, durante questa pausa natalizia potete andare a vedere anche tutti i video che sono stati pubblicati qui, ne avete tantissimi e quindi potete andare a recuperare quelli che non avete fatto in tempo a vedere. Avevamo la rubrica su Arduino, la rubrica ovviamente sui robot, sulla programmazione, sulle basi della programmazione con Scratch ma ditemi anche voi se ci sono degli argomenti nuovi, delle rubriche nuove che vi piacerebbe vedere così magari a cadenza mensile possiamo parlare anche di nuovi argomenti. Come vi dicevo abbiamo una sorpresa, ho una sorpresa per voi per il 2023 perché il 2022 deve ancora finire ma ovviamente sto già programmando il 2023 e oltre a programmare quello che vedremo qua sul canale ho una sorpresa appunto perché durante l'anno pubblico solitamente sui social, su Facebook e su Instagram i corsi che attivo, attiviamo di volta in volta e all'interno dei quali sono formatrice, molte volte sono corsi per le scuole, per i future lab e per enti vari e sono dedicati ai docenti, agli educatori di questi enti. mi avete chiesto in tantissimi se c'era la possibilità di partecipare anche come insegnante singolo quindi se potevo fare dei corsi anche per aperti a tutti diciamo così e ovviamente ci siamo riusciti quindi assieme a C2 Group che ormai conoscete perché qui sul canale facciamo assieme a C2 anche la rubrica Google News e poi ve ne ho parlato tante volte anche rispetto all'Ego Education ad esempio con C2 abbiamo pensato, abbiamo deciso di fare un corso dedicato proprio ai singoli insegnanti quindi vi potete iscrivere anche singolarmente, dedicato alle STEM, alla scoperta delle STEM in particolare alla scoperta della tecnologia creativa che è un po' quello di cui parliamo sul canale ma avremo modo all'interno di questo corso di scoprire tantissimi temi, tantissime aree che poi ci servono anche all'interno della didattica come strumenti di insegnamento e di apprendimento questo corso alla scoperta delle STEM con me partirà il primo febbraio ci saranno otto webinar e uno ogni settimana più o meno quindi finiremo alla fine di marzo faremo una pausa per la settimana di didacta quindi arriveremo fino alla fine di marzo e all'interno di questi otto webinar noi scopriremo come vi dicevo diverse aree collegate alle STEM e alla tecnologia creativa in particolare vedremo assieme il coding, la programmazione anche collegata alla robotica, il tinkering, il making e la realtà virtuale e realtà aumentata quindi scopriremo questi quattro mondi che sono diversi tra di loro ma hanno molte cose in comune quindi partiremo dalla programmazione che sarà poi alla base anche della scoperta degli altri mondi saremo proprio degli esploratori che andremo a capire che cosa sono questi quattro mondi diversi ma soprattutto come possono esserci utili, come possono contaminare diciamo così la nostra didattica per trasformarli in strumenti di insegnamento e di apprendimento l'obiettivo di questo corso è proprio farvi scoprire queste quattro aree magari non le conoscete, ne conoscete in parte, solo alcune magari ma farvi scoprire appunto questi quattro mondi diversi per scoprire anche quello che vi piace di più e che vorrete magari inserire all'interno della vostra didattica quotidiana non per creare programmatori, creare e far sviluppare all'interno delle nostre scuole appunto dei programmatori e dei tecnici ma per capire come queste aree anche creative possono essere utili per sostenere l'acquisizione degli apprendimenti e delle competenze in generale quindi come vi dicevo saremo degli esploratori che atterreranno sui diversi mondi ovviamente sarà un'introduzione ad ognuno di questi mondi perché ci servirebbero 8, 10, 15 webinar per ognuno ovviamente per approfondire però all'interno dei diversi webinar noi faremo un'introduzione ai diversi mondi quello a cui tengo moltissimo è sia un'introduzione teorica teorica per modo di dire scopriremo che cosa sono questi diversi mondi cosa è il coding, la programmazione, che cos'è il tinkering molto interessante che cos'è il making, cosa sono realtà virtuale, realtà aumentata e anche da dove vengono perché è bello anche capire dove nascono queste aree che non nascono ovviamente in ambito didattico ma possono come vi dicevo prima contaminare l'ambito didattico quindi scopriremo da dove vengono e cosa sono perché possono essere utili all'interno delle nostre classi, delle nostre scuole e poi vedremo anche invece la parte pratica quindi scopriremo quali sono gli strumenti più interessanti a parer mio ovviamente che possono aiutarci ad inserire queste aree in ambito educativo e anche vi farò vedere tantissimi esempi pratici di attività proprio all'interno delle classi dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado quindi ce ne sarà un po' per tutti i gusti in modo tale che possiate vedere quali sono proprio le potenzialità di quest'area applicate all'interno della nostra didattica quotidiana e dell'ambito ovviamente educativo come vi dicevo partiremo dal primo febbraio e quindi ci terremo compagnia per un paio di mesi spero che vi faccia piacere questa opportunità io vi lascio nell'info box anche il link diretto alla pagina del sito di C2 Group dove ci sono tutte le informazioni io adesso vi ho dato un'anticipazione ma lì trovate tutte le date, gli orari è possibile acquistare il corso quindi partecipare assieme a me al corso anche con la carta docente e in più una cosa importantissima C2 è un ente accreditato per quanto riguarda la formazione degli insegnanti quindi avrete l'attestato diciamo così certificato di partecipazione al corso avremo anche una piattaforma in cui ritroverete le registrazioni dei webinar ma anche dove mi potrete fare domande e potremo continuare a esplorare diciamo così insieme gli argomenti all'interno del corso così potremo stare assieme e continuare ad esplorare ovviamente in modo più approfondito rispetto a quello che facciamo sul canale in modo più organico i nostri argomenti preferiti diciamo così quindi spero di ritrovarvi già lì oltretutto adesso in questo periodo ne potete approfittare perché il costo è più basso quindi iscrivetevi adesso così saprò già che ci faremo compagnia appunto assieme in questi due mesi può essere anche un bellissimo autoregalo di Natale per continuare appunto a formarvi e informarvi e poi vedrete una ricaduta all'interno delle vostre classi a parte questo quindi la sorpresa che c'era da ci sarà nel 2023 da febbraio e marzo ci saranno anche altre tante altre proposte ci saranno webinar gratuiti che faremo sempre assieme a C2 ma non solo ci sarà una bella novità che era la novità che vi accennavo in una live di inizio anno scolastico ma che ancora non vi posso dire quindi restate assolutamente aggiornati sia su Facebook che su Instagram vi dirò tutto e ci saranno anche tante novità qui sul canale avete visto che c'è una programmazione abbastanza fissa al mese parliamo degli aspetti creativi che vi anticipavo prima di Google, di Canva anche e poi mi direte anche voi se volete appunto aggiungere nuove rubriche scrivetemelo qui nei commenti io ne approfitto ovviamente questo video oltre che parlarvi della sorpresa ha come scopo quello di farvi tanti auguri di buon Natale e di felice anno nuovo io vi ringrazio per avermi seguito per tutto questo 2022 ormai vi conosco perché commentando mi scrivete partecipate anche ai corsi vi ho potuto vedere a Didacta che è stata veramente bellissima a Didacta Sicilia oltre che a Didacta a Firenze dove vi aspetterò anche a marzo perché dall'8 al 10 marzo che è la settimana di pausa del corso vi aspetto anche a Firenze ma poi faremo in tempo a parlarne perché mancano ancora tre mesi ci saranno tanti altri eventi dove ci potremo finalmente vedere di persone spero di incontrarvi tutti quindi vi mando tanti auguri come vi dicevo e soprattutto un grande abbraccio spero che passiate delle feste serene riposatevi leggete guardate delle serie tv come piace fare a me e noi ci rivediamo qui come vi dicevo il 12 gennaio ma magari anche con qualche video sprint così perché magari ci sono delle novità in vista di cui vi voglio parlarne quindi un grande abbraccio ve lo mando davvero un bacio grazie ancora vi saluto e spero di ritrovarvi quindi assieme a me nel corso ciao